Daniele.tech, opinioni in open source Buon salve a tutti per questa 39esima puntata innanzitutto ringrazio le persone che mi contattano e mi ringraziano del podcast diciamo che per me la parte impegnativa non è il raccogliere link ma registrare cioè trovare quei 20 minuti di tempo o poco più che servono a rimettere a posto i link e parlare anche se una parte sono riuscito ad automatizzarla diciamo che rimane la parte di parlare quindi vi ringrazio, ringrazio anche le persone che si sono iscritte dagli Allinux Society perché ascoltano questo podcast, sono contento quindi direi che come strumento può funzionare certo bisogna avere del tempo da dedicarci però direi di non perdervi, l'ho già detto, tempo e cominciamo subito con i link allora, prima di tutto il link, uno che volevo mettere da un po' di tempo ma me ne sono scordato cioè era nel mucchio ma mi era sfuggito è questo praticamente di uno sviluppatore che ha documentato come il suo attacco fosse stato sotto attacco DOS da parte di Cloudflare cioè questa è la parte divertente potremmo dire nel senso che Cloudflare è una GDN ed è famoso, ne abbiamo anche parlato più volte perché protegge proprio dagli attacchi DOS però è successo che probabilmente per qualche mal configurazione di Cloudflare questo server fosse stato sotto attacco da parte di vari endpoint AWS di loro quindi è documentato un po' com'è successo eccetera diciamo che non ci si può mai stare tranquilli però visto che parlavamo di DOS vi parlo di stavolta di una vittima che non è però europea o americana cioè è europea perché parliamo di Yandex che è russo loro dicono di aver bloccato un DOS di 22 milioni di richieste contemporanea e sono riusciti a gestirle dicono perché la Russia ha una sua rete internet alternativa quindi potremmo chiamarla una sottorete internet che è pezzata apposta per resistere mettendo caso che un domani l'internet globale schiattasse quindi diciamo che è interessante anche notare questo e l'articolo poi spiega un po' nei dettagli cosa è successo una notizia però di cui noi come italiani dovremmo essere contenti è che la Open Source Initiative che non so quanti voi la conoscono è una fondazione il cui scopo è quello di praticamente di prendere le licenze Open Source e dire se effettivamente sono Open Source cioè rientrano nello standard Open Source oppure no quindi diciamo che è un ente, una fondazione pensata apposta per verificare e dare un po' di regole al mondo beh, è cambiata un po' leggecentemente anche probabilmente dopo i casini nel mondo della FSFE adesso al direttore esecutivo che è stato eletto perché prima era un'organizzazione un po' stile un direttivo beh, adesso c'è il direttore esecutivo che è un italiano che onestamente non conosco quindi non ne so molto e che sicuramente approfondirò più là il personaggio insomma però ecco, sono curioso ovviamente l'Open Source Initiative non è una cosa che esiste da un anno ma esiste da, credo, più di un diecennio se non mi ricordo male ed è quella famosa del logo verde dell'open source quel semicerchio è il logo suo praticamente poi se venivate al Fosdem agli incontri diciamo, degli eventi potevate rimediare anche la patch che io ho cucito su uno zaino mi pare e anche su una giacca comunque cambiando completamente argomento visto che parliamo di open source c'è questa riflessione praticamente che spiega un po' come viene visto l'open source dal mondo dell'Enterprise e siccome tu stai ascoltando questo podcast probabilmente già lo sai come viene visto ovvero una cosa da non tanto succhiare ma stritolare e sfruttare il più possibile beh, perché? beh dopo tutto le aziende mettono prodotti open source e dipende come lo fanno se nello spirito ok, eccoci ci fate quello che vi pare oppure no lo manteniamo perché è parte dei nostri servizi cioè voi potete utilizzare i nostri servizi perché c'è questo prodotto allora quindi lo curiamo anche che quindi fa una bella sottigliezza perché parte da un problema che è nato di un progetto Apache di cui una buona parte dei componenti è mantenuto da Google perché lo utilizza Google internamente e quindi non c'è molto supporto o gestione per la comunità anche se è un progetto Apache e quindi qui si potrebbero aprire moltissime discussioni però sono roba che oramai a drita a drita parliamo di altro perché pare che alla gente piace che io parlo di altro di quelle cose che non si sentono mai e quindi io continuo c'è questa riflessione del suzito il post che non è che mi piace molto come sito però per una volta è stato fatto abbastanza bene quest'articolo praticamente smonta un po' il sistema di Apple che è stato pensato per la tutela dei minori leggendo quest'articolo immagino che voi l'avete già sentito Apple vuole implementare un sistema che praticamente vede se nel tuo telefono ci sono materiale pedopornografico di conseguenza di segnale alle autorità ora questo lo farebbe però sulle tue foto presenti sul tuo telefono che poi sarebbero anche sul tuo cloud quindi diciamo che ti spia in un modo o nell'altro e c'è un problema in questa tecnologia almeno secondo me ovvero il fatto che loro praticamente non fanno un hash dell'immagine perché a quel punto potrebbe dire la ritaglio di un pixel e pam giro il sistema perché l'hash sarebbe diverso per chi non sa cos'è un hash un hash è una stringa alfa numerica che corrisponde a un marchio di quel file ovvero quel file avrà sempre quell'hash se lo modifico leggermente l'hash sarà diverso è un modo per avere tipo un'impronta digitale del file per identificare che è sempre quello e non usa naturalmente il nome del file ma il contenuto quindi anche i metadati tutto quello che sia Apple per questo ha realizzato anche un paper in cui spiega che non lo fa totale di tutta l'immagine l'hash ma soltanto di alcune di 30 parti di un'immagine ora diciamo che basterebbe anche poco probabilmente per alterare questo sistema perché se io faccio un'immagine che non corrisponde mettendo per esempio una filigrana ecco che a giro probabilmente che ne so 5-4 di questi punti di identificazione però non piace a nessuno perché effettivamente Apple è famosa per la privacy e si sta mettendo le zappe sui piedi un po' come è successo con altri progetti che come in questo caso abbiamo parlato la settimana scorsa ovvero di ProtonMail ProtonMail ne abbiamo parlato proprio la puntata scorsa l'ho già detto parlo di cose per le stesse cose comunque ProtonMail era diventato famoso perché loro non ti tracciano non salvano il tuo IP però in un modo o nell'altro hanno fornito l'IP di un loro utente diciamo all'ente svizzero che è privilegiata dalla polizia francese beh hanno tolto questo riferimento sul loro sito non lo so cosa possiamo aggiungere a questo commento però la dimostrazione è che forse se uno vuole la privacy delle cose se le deve fare in casa e visto che parliamo di privacy c'è anche questa notizia che è saltata fuori di Whatsapp che è Enduent encrypted l'enduent che ce l'ha anche Telegram multi servizi significa che la comunicazione da una parte e l'altra è criptata ovvero nella trasmissione proprio del dato il dato è criptato e viene conservato criptato poi a casa mettiamola così quindi Whatsapp non sa quello che c'è scritto però è possibile che lo sappia come lo sa praticamente quando tu segnali un messaggio non fai altro che prenderlo Facebook prende diciamo il testo decriptato e viene mandato su server e poi loro in un modo o nell'altro faranno un controllo su questo messaggio foto, materiale quello che siano e quindi diciamo che crea anche qui un po' di problemi comunque c'è poi quest'altra cosa di un ransomware visto che stiamo arrivando al momento della sicurezza beh il ransomware che praticamente non encripta tutto il file ma solo alcune parti per rendere più difficile identificarlo è una genialata perché in ogni caso corrompe il file e quindi te la pigli in saccoccia così si dice dalle mie parti però è un modo alternativo per criptare e fare ransomware poi un'altra cosa che ho voluto mettervi che era un inizio italiana è questa cosa del catalogo delle donne single di Lecco beh praticamente che è successo una persona di 50 anni ha realizzato un ebook a 7 euro che praticamente ha fatto un catalogo delle donne single utilizzando dati da Facebook e da altri enti fingendosi avvocato per poter richiedere questi dati ha fatto questo libro e adesso deve pagare una multa perché se non mi ricordo male 8 o 9 delle donne presenti in questo libro a noi hanno fatto cause e dovranno pagare tipo almeno 10.000 euro 1.000 euro adesso non mi ricordo fatto sta che è una bella botta da un punto di vista è una genialata da un altro punto di vista dimostra anche un po' il problema dei dati e che è il tema anche dell'inux tema fra poco ci arriviamo comunque c'è anche questa svolta allora io non ho mai parlato più di tanto della mia sfera politica ovvero di come la penso e non lo voglio neanche dire anche se per chi mi segue basta che prende facebook o twitter e vede chi segue ci potrebbe arrivare con un po' di cervello comunque fatto sta che c'è questa cosa che è molto affascinante che ne abbiamo già parlato ovvero delle firme digitali per il referendum ora questa è una svolta dovuta grazie a radicali che hanno permesso il passaggio di questa legge e che sta permettendo la raccolta di centinaia di migliaia di firme che prima avrebbero richiesto banchetti ovunque con tutti i problemi costi tempi eccetera mentre adesso si può fare online è molto più rapido e stanno raccogliendo sia per il referendum per l'eutanasia che adesso anche per quello per la cannabis centinaia di migliaia di firme ora in Italia parliamo non stiamo parlando dell'America che in America non c'è una cosa del genere da noi c'è e a quanto pare siamo uno dei pochi paesi che ce l'ha al mondo la possibilità di raccogliere le firme del referendum in digitale che è incredibile però c'è un altro lato della medaglia i privati per poter utilizzare speed perché per fare questa firma viene utilizzato speed perché fa da certificato un po' come perché è una firma digitale potremmo dire in tutti i sensi beh speed però si utilizza da privati ha un costo ad ogni eccesso di 50 centesimi quindi è normale che queste raccolte firme richiedano le donazioni per poter pagare diciamo questi costi allo Stato per l'utilizzo di speed da un certo punto di vista è una cifra esorbitante e che si potrebbe evitare per questi fini onestamente anzi io spero che un domani così avremo molti più referendum perché io vorrei tanto poter votare e dire la mia su tante cose che vengono fatte o che andrebbero fatte per dare priorità diverse però diciamo che è un argomento sicuramente affascinante una cosa adesso passiamo proprio completamente argomente veniamo in casa Mozilla ho due notizie stranamente questa settimana la prima è di Firefox che adesso sta lanciando solo per Windows perché sta seguendo il ticket per Linux praticamente è un sistema che verifica le varie schede che sono aperte ma non sono utilizzate perché c'è gente malata perché la posso chiamare solo così che senso avere centinaia di tab aperte e non usare preferiti io non lo capisco cosa vi gira nel cervello onestamente non lo so perché poi è peggio più gestirle cioè io non lo so però comunque fatto sta che sta implementando per Windows e l'ha implementato un sistema che verifica queste tab e fa in modo di non caricarle in memoria e questo dovrebbe permettere anche la riduzione di crash perché mangiano troppa memoria ovviamente se ce ne sono tante e quindi breve ci spera vi augusto su Google il Ticket per Linux arrivi anche negli altri sistemi io come ho detto di solito la mia media è di avere 4 o 6 schede aperte quando ne ho di più perché appena ho aperto i feed del SS sto raccogliendo i link per il podcast comunque l'altra notizia invece che è divertentissima è che Mozilla ha sconfitto l'ha protezioni per il browser predefinito su Windows 10 praticamente ad oggi se tu vuoi impostarlo non lo puoi fare dentro l'applicazione ma lo devi fare dal pannello di Windows che non è praticissimo è un po' nascosto e quindi diciamo che non tutti lo fanno di cambiare edge come browser predefinito Microsoft dice che non ha esposto un API o qualcosa per evitare che virus o altro cammino le impostazioni però pare che Firefox sia riuscita ad aggirare questo meccanismo e adesso quando tu tu Firefox da Windows 10 dici imposta è predefinito su Windows 10 funziona l'imposta come predefinito il che dice beh abbiamo vinto comunque poi voglio parlarvi di Grafana che è anche il tema del mio talk per il Linux Day e adesso vi dico cos'è Grafana abbiamo credo già parlato Grafana è uno strumento open source con un'azienda dietro che praticamente è un visualizzatore di dati tu gli dai che ne so un database un log dei dati divisi nel tempo lui gli fa grafici e tutta una tasera di informazioni poi sopra c'ha anche che ne so gli avvisi automatici notifiche su qualunque servizio eccetera abbia ricevuto un sacco di soldi ma milioni di dollari in donazioni perché molte aziende sono suoi clienti ma anche molte aziende lo utilizzano e quindi loro piano piano hanno questa ottica di rilasciare quei progetti che sono enterprise e quindi sviluppo poi open source quando sono definiti pronti quindi diciamo che tutto quello che offrono loro è open source ho scoperto che hanno anche il piano cloud gratuito in cui offrono 50 giga di spazio di dati gratuiti io ho la mia stanza che utilizzo per lavoro che è anche il mio tema del talk vorrò vedere un po' di cose però è fra qualche link non mi spoilerò da solo un'altra notizia questa volta è un pdf di una rivista digitale che è Agile for Italy un mio amico un carissimo amico Piero Savastano diciamo è il maestro del machine learning io ho seguito un suo corso dal vivo cioè un corso al pagamento sul machine learning perché io capra di matematica e di queste cose ne volevo un po' sapere di più questo ovviamente in pre-covid e lui è famoso per via del suo canale youtube che fa moltissimi video tutorial anche su sviluppando in python o meno in cui spiega queste cose anche per povere persone come me che di matematica la loro conoscenza media era 4 in tutti gli anni delle superiori e ci riesce cioè comprensibilissimo e Piero poi ha parlato anche i linux day i workup quindi è proprio una persona fantastica Piero quindi vi consiglio di seguirlo su youtube perché lui non fa podcast ha anche il suo canale telegram e fa anche altri corsi da quello che vedo beh ha rilasciato un'intervista quindi c'è il pdf su questa rivista una chicca e questo invece un'altra cosa è un tool che ho saltato fuori su github praticamente qualcuno ha creato uno strumento che converte i pdf in doc x e spiega un po' il processo praticamente prende nixcape genera dal pdf degli svg e poi l'embedda dentro un file che diventa doc x cioè una cosa pastrocchiata infatti lui lo dice lo stesso l'ho fatto soltanto per quei clienti che non non sanno che cosa sono i pdf però ecco è affascinante vedere che si possono aggirare queste cose così una notizia che a me piace poi del mondo kde beh allora kde è una fondazione quindi ha dei pacheon ha delle aziende che le supportano prima c'è la slingbook che è l'azienda attuale anche del mio portatile che ho proprio marchiato con l'oghetto di kde adesso c'è la tuxedo computer che è l'azienda del mio precedente portatile che ho avuto per oltre sei anni è diventata un patron di kde e adesso stiamo arrivando a un po' lato che io volevo proprio di cui parlare dopo tutte le notizie quindi mi sono tenuto un po' di tempo è gli eventi bene stanno riprendendo gli eventi del mondo informatico in italia e io sono godetissimo perché proprio ne ho bisogno dopo tutto questo tempo ne ho bisogno e lo vedo anche perché per me erano fonte di ispirazione per fare tutte quelle cose che sto facendo adesso su ilsa ad esempio a mozilla e anche nel libro erano proprio incontrare le persone e parlarci e io prendo appunti nel modo o nell'altro beh ci sarà la settimana prossima il 21 settembre alle 18 a Firenze l'open source day e io ci sarò ho comprato qualche mese fa i biglietti del treno quindi ci sarò e non so se hanno accettato il mio talk perché la call for paper da quello che ho visto scadeva oggi quindi può darsi che lo saprò dopo aver registrato la puntata però in ogni caso io ci sarò quindi se volete ci vediamo lì beh il tema di questo evento sono 4 talk da mezz'ora da quello che ho capito e io ho applicato con il mio libro porterò degli adesivi quindi per chi è in Toscana e vuole fare un salto c'è il link in descrizione e io sarò molto contento perché finalmente riprendo a Firenze in Italia ovviamente perché gli avetti all'estero è ancora molto prematuro un'altra invece è la SFCon la Sud Tirol Free Software Conference che non ci sono mai andato onestamente era una delle conferenze a cui proprio ci tenevo ad andare anche perché sembra fatta in modo professionale una cosa seria ed era in Italia per quanto qualcuno potrebbe dire che Bolzano non è Italia in ogni caso a parte diciamo questo dilemma politico è a metà novembre il 12-13 novembre io ho un talk lì parlerò di nuovo del mio libro e quindi ho già prenotato l'hotel adesso aspettando i treni perché pare che domani pure qui ci sarà pubblicato il nuovo orario dei treni di Trenitalia perché dovrò partire da Riedi poi andare a Roma e da Roma Bologna a Bolzano e quindi sto vedendo per i treni come arrivare su che per me è un pelino su comunque ci sarà questa conferenza il programma è stato già pubblicato e sembra che ci sarà un bel mucchio di gente che conosco ad esempio delle Vignoli o Marina che sono della comunità Libre Office della The Document Foundation ci sarà di Wikimedia Italia per conto di OpenStreetMap ci sarà anche uno sviluppatore di KDE e poi altra gente con i nomi ci sarà ecco che mi stavo scordando mi stavo scordando che ci sarà Zacchi Roli ex Debian Project Leader per due anni e adesso della software Heritage questa fondazione quindi ci sarà anche Carlo Piana che è famoso come vocato nel mondo open source è stato fuori primi a fare la causa contro Microsoft quando venne creato il protocollo SMB per Samba io ho anche credo se lo mi chiedono domani un paio di suoi libri che sono raccolte di articoli che ha scritto quindi ci sarà sicuramente gente interessante l'evento è in inglese perché così vi facciamo felici tutti però ovviamente mi troverete anche lì e porterò gli adesivi come solito e quindi ci sono questi due eventi poi un'altra notizia di cui ho accennato velocemente la settimana scorsa è stato pubblicato questo documento dalla Open Forum Europe che praticamente è un documento di 320 pagine su un'analisi del mondo open source di come contribuisce non tanto all'ecosistema ma all'economia dell'Unione Europea e Italia Linux Society ha partecipato a tutto questo documento ora io ho provato a leggerlo mi stavo crollando dal sonno e anche se non era sera perché sono tante fatto sta che nelle prime 20 pagine c'è riassoluto tutto il resto del documento però non aggiunge niente di nuovo cioè per noi sono cose che già sappiamo ma sono state rese evidenti per i burocrati o politici mettiamola così mentre la ciccia è il Linux Day ora il Linux Day è la tradizione si fa ogni anno verso la fine di ottobre ora l'anno scorso è stato fatto solamente online per motivi che tutti ben sapete quest'anno sarà ibrido nel senso che ci saranno dei lug di Linux Group che li faranno dal vivo e altri no bene c'è l'online e oggi è stato pubblicato la prima versione del programma che io non ho letto so che c'è il mio talk lì in mezzo e questo nella mia città lo sto organizzando dal vivo quindi noi faremo una mattina 5 talk tra cui ci sarà questo stesso talk che probabilmente lo registro in modo tale che per la versione online già c'è perché ancora non so aspettivamente se ci potrà essere dal vivo tra l'altro ma per motivi completamente diversi però fatto sta che nella mia città lo organizziamo dal vivo e poi nel pomeriggio ci sarà una specie di stall party mentre ascoltiamo quella conferenza online comunque c'è Linux Day e quindi volevo fare prima vi finisco con i link conclusivi che sono i stessi delle ultime puntate tranne questo qui del manuale del lug perché è un lavoro che ho portato avanti da un bel po' ovvero ho raccolto un sacco di appunti il manuale del lug che era un pdf adesso è stato convertito in una pagina web c'è la par request per il sito e sono in attesa di suggerimenti per migliorarlo perché io ho aggiunto delle cose ma ovviamente c'è anche il pregresso e vorrei parere di tutti il manuale per il lug che cos'è? praticamente sono le istruzioni su come creare un lug o come gestirlo cosa fare e così via ma non è un mattone neorealista o tristissimo quello che volete più che altro sono le istruzioni e suggerimenti basate sulle pelle di altri che hanno organizzato i lug eventi quindi lo trovate lì c'è sempre il link in descrizione quindi aspetto i vostri commenti poi come al solito c'è planetlinux.it dove potete trovare tutti gli eventi in tutta Italia di comunità del mondo open source e delle tematiche digitali diviso per regione e poi c'è la mia recensione di elettroludica però ecco adesso io vorrei fare un po' una specie di unboxing del programma del Linux Day che forse lo metterò anche come titolo del podcast e adesso lo leggiamo insieme cioè per me sarà in diretta per me no ora saranno 4 track tutto il giorno di sabato chiamate dati personali dati pubblici dati elaborati approfondimenti allora vediamo che ci sono dei talk su anche di durata di un'ora o mezz'ora in base al tema sono stati un po' strutturati diciamo in modo alternativo c'è machine learning poi c'è io pendato al servizio cittadino c'è mind new health come fare un home assistant in modo open source il progetto dati bene comune che sono molto contento che hanno partecipato anzi li devo ringraziare c'è altro su machine learning un po' sugli algoritmi inkscape un tour di distribuzioni su gnome poi c'è anche un qualcosa sulla gdpr abbiamo italo vignoli che merita sugli standard aperti per la cittadinanza digitale che sicuramente già solo questo mette cioè merita poi ci sono i dati sicuri dentro macchine virtuali criptate addirittura ce n'è uno sul fediverso di elena che è una debian contributor debian quindi un fa pacchetti è proprio una persona bravissima uno su https sulle pubbliche amministrazioni c'è il mio talk su grafana come contribuire al libreoffice di gabriele pozzo di terni che è nel membership di libreoffice della dedocu fondation scusatemi c'è anche un talk di mozilla di alessio vedo che lui è dipendente mozilla l'anno scorso ha presentato il talk su come hanno analizzato la situazione in italia con il covid grazie ai dati della telemetria di firefox addirittura c'è della roba uno su privacy for dummies sicurezza e privacy per una questione consapevole ce n'è uno su common voice di stefania e poi abbiamo altri talk su micoservizi e sui dati che è il tema medio il progetto cittadino medio i dati strutturati per tutti di ferdinando traversa che è uno dei più famosi contributor per via della sua età i wikimedia e anche i needs poi abbiamo un talk di damiano sempre dalla comunità di mozilla italia poi c'è come mettere l'esperienza di mettere in produzione c'è chi ha salutato google c'è il talk c'è Palore Zolosa che è stato ex presidente di wikimedia italia pure lui grande contributor di wikimedia e partecipa sempre alle riunioni poi del mergit con un talk su wikidata wikidata è praticamente il sistema dei dati interni di wikimedia è spettacolare ci vuoi dire fare tutto quello che ti pare poi abbiamo qualche cosa un po' più tecnica sull'open hardware e sulla corruzione dei dati i cookie e banner c'è uno di Matteo Zaffonato che è un contributor da lungo tempo del mondo open street map infatti fa il riutilizzo dei dati di open street map poi c'è qualcosa di nuovo anche sui formati standard però stavolta Emiliano Vavassori di Libri Italia c'è un'introduzione a Rust c'è qualcuno che parlerà prima di vendere pc pensaci poi c'è Filippo Della Bianca che tra le persone dietro poi devil.it che è una delle realtà no è la realtà italiana che sta mettendo tutte queste piattaforme self-hosted alternative a vari servizi come Mobilizon per Eventbrite Mastodon per Twitter e tutti gli altri quindi anche questo merita e poi questo su internet a misura umana quindi abbiamo fatto un unboxing del programma sono curioso tutti questi talk verranno registrati e quindi non si perderà niente ve lo posso assicurare e ovviamente questa è stata una cosa fatta al volo con voi quindi direi a questo punto di salutarci non credo che ci vedremo la settimana prossima tutto dipende da quando riesco a registrare la puntata perché martedì è il giorno dell'evento a Firenze quindi non so se la registrerò prima o la registrerò dopo o quindi durante la settimana però ecco intanto beccatevi tutti questi link e ci vediamo alla prossima puntata e vi ricordo mi trovate come mt90 su tutti i social tranne su twitter dove sono mt90net quindi ciao e alla prossima